TaxDom offre la possibilità di gestire documenti e file attraverso la creazione di modelli di cartella I modelli di cartella permettono di stabilire a priori l'organizzazione dei documenti, delle cartelle e delle sottocartelle definendo anche i diversi livelli di accesso possiamo andare a creare un modello di cartella da modelli, modelli di studio, crea modello possiamo definire il nome del modello qui troviamo già delle cartelle con i tre diversi livelli di accesso quindi il cliente può vedere i file ma non può modificarli può visualizzare e modificare i file e il cliente non ha accesso al file quindi sono file privati condivisi all'interno dello studio secondo i livelli di accesso dei vari membri del team di default TaxDom offre la cartella anni fiscali predefiniti anche in questo caso possiamo andare a editare il nome, a caricare una cartella, a creare altre cartelle ricordandoci che ogni sottocartella prenderà gli stessi diritti di accesso della cartella principale per utilizzare i modelli di cartella abbiamo due opzioni possiamo andare in impostazioni, impostazioni dello studio e andare a scegliere il modello di cartella predefinito fra quelli esistenti questo vuol dire che quando un cliente viene aggiunto o si registra la piattaforma verrà applicato questo modello il modello verrà aggiunto e non sovrascriverà i modelli precedenti possiamo andare anche da clienti account e ad esempio selezionare gli account per i quali vogliamo utilizzare un altro modello di cartella in questo caso dopo aver selezionato gli account bisognerà cliccare su più azioni e cliccare su applica modello di cartella la schermata ci mostrerà gli account per i quali stiamo effettuando questa operazione e il modello di cartella da applicare per uno studio commercialista gestire documenti è sicuramente una priorità per questo Tuxdom permette di gestire la documentazione suddividendo i vari file in cartelle con diversi accessi in modo semplice e veloce con Tuxdom è possibile caricare e gestire file con pochi clic abbiamo diverse modalità per la gestione dei documenti la più semplice e veloce è cliccare su un nuovo e caricare un documento o una cartella in questo caso cliccando sul documento vado a scegliermi il documento che appunto voglio caricare la piattaforma mi chiederà poi per quale cliente caricare il documento e in quale cartella inserire il documento cliccando su successivo la piattaforma mi offrirà diverse opzioni c'è appunto l'opzione di notificare al cliente il caricamento del documento di contrassegnarlo come letto per il cliente è possibile notificare follower ovvero coloro che seguono il cliente quando appunto il cliente apre il documento richiedere l'approvazione del cliente e aggiungere una descrizione inoltre collegando il proprio account Tuxdom a Stripe è possibile collegare una fattura al documento o nel caso di un lavoro esistente è possibile collegare il documento a un lavoro basta cliccare su carica per procedere appunto con il caricamento del file per la gestione dei documenti posso cliccare sulla sezione documenti nella sidebar a sinistra che mi aprirà appunto documenti del cliente in questa schermata avrò la vista sui documenti recenti potrò caricare un documento o una cartella effettuare una ricerca o utilizzare il filtro quindi inserire e selezionare le variabili per effettuare una ricerca personalizzata da qui posso vedere documenti per i clienti e posso vedere documenti che sono stati cestinati posso accedere ai documenti anche andando su clienti e su account selezionando il nome del cliente posso effettuare la ricerca qui quindi posso trovare direttamente il cliente che mi interessa e cliccare sul nome del cliente nella sezione panoramica se fossero presenti vedrò qui gli ultimi 5 documenti del cliente ma posso accedere poi alla sezione specifica cliccando appunto su documenti in questa sezione come è possibile vedere ci sono 3 cartelle queste cartelle fanno parte di un modello di cartella che viene applicato di default ma che è possibile appunto modificare vedremo in seguito appunto come gestire il modello di cartella queste cartelle hanno 3 diverse icone ogni icona si riferisce a un differente permesso ad esempio nel caso di documenti caricati dal cliente ritroveremo l'icona di un omino con la matita questo vuol dire che il cliente può visualizzare e modificare i file in questa cartella e li può ovviamente caricare è utile utilizzare questa cartella per far sì che il cliente possa appunto caricare o modificare un file ed è possibile in questo caso selezionando i tre puntini al lato anche richiedere un file il cliente riceverà quindi una richiesta che lo inviterà a caricare un file che andrà in questa cartella nel caso della cartella documenti condivisi clienti vedremo un'icona di un occhio verde questo vuol dire che il cliente può solo visualizzare i file in questa cartella quindi non può apporre modifiche e non può caricarli qui vanno collocati tutti quei file per i quali è necessario richiedere la firma ad esempio in questo caso potremo richiedere la firma per questo file andando a cliccare sui tre puntini relativi al file e appunto selezionare richiedi firma la cartella privati ha l'icona di un occhio grigio sbarrato questo vuol dire che il cliente non può accedere a questa cartella e i file che sono all'interno saranno visibili solo al proprietario dello studio o ai membri del team secondo i permessi che sono stati assegnati questa è come appare la vista della cartella principale e delle varie sottocartelle che sono state assegnate è possibile modificare il nome delle cartelle creare una nuova cartella caricare una cartella esistente è importante tenere presente che nel momento in cui vado a creare una sottocartella la sottocartella prenderà i permessi relativi alla cartella principale ci sono diversi modi quindi per caricare e gestire documenti su Tacto e ricordiamo che attività e azioni veloce possono essere fatte anche direttamente dall'applicazione per smartphone Tacto offre anche un potente editor pdf basta cliccare il nome del file direttamente dalla piattaforma e selezionare appunto lo strumento che vogliamo inoltre ricordiamo che andando nelle impostazioni del proprio account cliccando qui in alto a destra è possibile scaricare l'applicazione Windows si tratta di un'applicazione per PC che consente di gestire documenti in maniera veloce e di effettuare operazioni di massa quindi un caricamento di più file per più clienti inoltre con l'applicazione per desktop Tacto fornisce anche uno spazio di archiviazione gratuito e limitato Grazie! Grazie! Grazie!